Enrico Giovannini, portavoce di ASVIS, portiamo l'Italia sul sentiero dello sviluppo sostenibile? Tutti i paesi che si sono incamminati in questa direzione, che hanno fatto grossi passi avanti, l'Italia un po' di meno, ci insegnano che sono tre gli ingredienti fondamentali. Il primo elemento è la tecnologia, senza un salto di tecnologia non riusciremo a evitare gli inquinamenti di varia natura, ad avere mobilità sostenibile, ad avere un'economia circolare. Ma accanto alla tecnologia serve un cambiamento di mentalità, non solo nei produttori ma anche noi consumatori e naturalmente nella politica in chi fa educazione. E il terzo elemento è la governance, cioè la capacità di mettere insieme le diverse parti di una società per remare tutti nella stessa direzione. Per questo l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ha deciso di lanciare il Festival per lo Sviluppo Sostenibile con oltre 200 eventi in 17 giorni. I gruppi di lavoro all'interno dell'Alleanza Italiana, ai quali la Fondazione Bruno Kessler partecipa, sono quello sulla salute, che ha come obiettivo garantire le condizioni di salute e il benessere per tutti e a tutte le età. Poi quello sull'energia, con l'unità di ricerca Ares, Ad Applied Research on Energy System del Centro Materiali e Microsistemi. E infine il gruppo di lavoro sull'istruzione con l'Istituto per la valutazione delle politiche pubbliche. Sentiamo Antonio Schizzerotto. Ci occupiamo di politiche tese ad accrescere l'equità sociale, ci proponiamo di analizzare e di disegnare politiche che riducano le disparità di genere, ci preoccupiamo di disegnare misure contro la povertà e tra queste anche misure di politiche dell'istruzione che consentano di, da un lato, accrescere il tasso di istruzione terziaria tra i giovani italiani, che come noto sono quelli in Europa che meno accedono all'istruzione universitaria e che comunque vedono le loro possibilità di partecipare all'istruzione terziaria per l'appunto fortemente condizionate dalle loro origini familiari e appartenenze familiari. Quindi da questo punto di vista ci occupiamo di un altro obiettivo di rilievo dell'Alleanza per lo Sviluppo, che è esattamente quello di garantire una maggiore istruzione e uguali opportunità di istruzione per tutti.